buongiorno a tutti oggi ci troviamo in compagnia del professor Umberto Jemma che insegna meccanica razionale per la laurea tennale ingegneria meccanica e progettazione strutturale dei velivoli per la laurea magistrale di ingegneria aeronautica buongiorno professore ora le chiederei di raccontarci qualcosa sull'insegnamento di progettazione strutturale dei velivoli si progettazione strutturale dei velivoli è un esame del secondo anno secondo semestre del secondo anno di della magistrale ingegneria aeronautica è un esame nel quale diciamo vengono forniti le competenze per poter sviluppare un progetto di un velivolo un progetto completo tenendo conto di tutte le discipline il termine strutturale nel nome e che fa pensare ovviamente ad una ad un corso più incentrato sul dimensionamento delle strutture e diciamo che non rende completamente l'idea esiste perché comunque un aeroplano è un oggetto che si suppone debba volare quindi deve essere leggero no quindi in qualsiasi fase della progettazione qualsiasi cosa tu fai per un aeroplano qualsiasi dispositivo tu inventi la prima cosa che ti chiedono è quanto pesa la seconda è quanto costa ma se alla risposta quanto pesa non è soddisfacente può essere il dispositivo più meraviglioso del mondo su un aeroplano non viene montato o perlomeno bisogna affrontare la cosa più a fondo dicevo quindi termine strutturali esiste per questo perché poi comunque alla fine il peso della struttura è un aspetto talmente centrale che rientra sempre talmente importante che comunque rientra sempre da quelli centrali ma l'approccio del corso è quello di affrontare in maniera multidisciplinare e il fatto che venga erogato al secondo semestre dell'ultimo anno deriva proprio dal fatto che è necessario che gli studenti abbiano percorso l'intero corso di studi e abbiano anche se non hanno ancora passato l'esame abbiano comunque seguito tutti i corsi delle discipline rilevanti la fluidodinamica l'aerasticità l'analisi strutturale la dinamica del volo perché tutte queste competenze le dovranno utilizzare all'interno del corso il corso è sostanzialmente si lo possiamo dividere in tre in tre parti una parte iniziale che ha a che fare semplicemente con l'acquisizione delle tecniche classiche di dimensionamento preliminare una una parte molto molto diciamo la più semplice se vogliamo e diciamo copre la primissima fa le primissime lezioni dopo però si comincia immediatamente a studiare c'è una parte del corso che ha come dire degli aspetti matematici molto molto rilevanti a studiare le teorie di ottimizzazione multidisciplinare basata su modelli di simulazione e questa è la parte più consistente del corso dal punto di vista delle nuove competenze acquisite in parallelo gli studenti devono sviluppare un progetto e il voto finale è dato dalla media pesata del voto sul progetto e del voto che ottengono ad un orale classico devo dire che i progetti sono veri progetti nel passato posso dire che per esempio alcune delle dei progetti sviluppati dagli studenti nell'ambito di progetti di ricerca europea sono stati accettati come base di partenza per un reale progetto di un velivolo innovativo che viene attualmente e quest'anno per esempio hanno i ragazzi hanno fatto dei progetti molto molto interessanti adesso prima o poi li diciamo metterò dei post relativi su un sito che avevano a che fare con i problemi attuali uno dei progetti per esempio c'erano molti progetti sui droni ma ovviamente questa è la cosa che va droni per consegna droni per trasporto organi in condizioni di emergenza droni fatti tutti molto bene c'è uno progetto che mi ha colpito particolarmente perché degli studenti hanno hanno avuto l'idea di dire possiamo provare a progettare un dirigibile per il salvataggio in mare e l'idea è quella di avere qualcosa che voli capace di salvare di come dire di recuperare fino a 100 150 naufraghi alla volta quindi con una capienza con una capacità di salvataggio simile a quella di una piccola nave però capace di spostarsi a 180 200 km all'ora quindi dieci volte più veloce più di dieci volte più veloce di una nave io all'inizio ero titubanti diciamo ma ragazzi ma siamo sicuri guardate che poi un oggetto del genere un dirigibile è difficile da lavorare col maltempo no non lo vogliamo fare hanno fatto un ottimo progetto è una cosa che mi ha anche in parte quasi commosso e che proprio il giorno in cui hanno presentato il progetto è arrivata la notizia di quella tragedia che c'è stata nel canale di sicilia che era è stato un in quel caso quel dirigibile li avrebbe salvati il tempo era buono erano un centinaio di persone e semplicemente le navi non hanno fatto in tempo no questa è una cosa che mi ha veramente colpito e una delle cose alle quali tengo quando quando parlo con i miei studenti è di ricordare che l'ingegnere è un tecnico ma è un tecnico che opera nella società civile quindi deve essere connesso con le esigenze della società e quindi questo è un esempio che mi ha fatto veramente è stato veramente un piacere trovare vedere quella quel progetto quest'anno e basta questo grazie grazie professore per questa esaurante risposta e ora le chiederei di raccontarci qualcosa invece sulle sue attività di ricerca dunque io sono un ingegnere aeronautico e la mia ricerca si può dire volendo riassumere in una frase quello che faccio quello che facciamo perché poi è comune ai miei colleghi del gruppo di ingegneria aeronautica è la progettazione di velivoli innovativi per velivolo intendo in senso lato aeroplani elicotteri qualsiasi adesso vanno molto di moda i droni perché saranno la prossima frontiera del trasporto in vari ambiti avendo un particolare diciamo curando particolarmente gli aspetti di sostenibilità e in particolare gli aspetti di sostenibilità dal punto di vista del rumore prodotto volendo dare proprio una riassumere in un'unica frase poi in realtà questa questa attività si sviluppa attraverso diversi temi in grandi linee i due filoni dei quali mi occupo con i miei collaboratori sono la progettazione lo sviluppo di modelli per l'identificazione di materiali innovativi non esistenti in natura che permettano di avere di costruire dei dispositivi con una risposta acustica non convenzionale i cosiddetti metamateriali e cosa ci serve questo ci serve perché con questi metamateriali si possono costruire dei dispositivi che installati su un aeroplano possono ridurre il rumore che viene emanato e ridurre la porzione del rumore che viene propagata verso terra quindi sostanzialmente migliorare renderli più silenziosi e più sostenibili l'altro grosso filone di ricerca è quello dell'ottimizzazione multidisciplinare ancora una volta la mia attenzione è su aeroplani su cose che volano ma questo è una diciamo è un tema che si può applicare a qualsiasi sistema complesso l'aumentare della complessità dei sistemi l'aumentare dei vincoli in termini di sicurezza affidabilità redditività economica anche sostenibilità ambientale impongono che qualsiasi sistema complesso venga affrontato fin dalla delle primissime fasi di progettazione con un approccio multidisciplinare e faccio un esempio molto semplice un aeroplano è una struttura deve essere una struttura leggera perché deve volare e deve sopportare i dei elevati carichi aerodinamici tutto dal fatto che si muove in una in un fluido che sostanzialmente attraverso i carichi sulle sulle ali permette di volare bene anticamente diciamo inizialmente l'analisi era sostanzialmente suddivisa tra esperti di aerodinamica di aerodinamica che studiavano i carichi aerodinamici appunto sulla superficie dell'ala necessari a volare e poi gli strutturisti che prendevano dagli aerodinamici questi carichi e facevano in modo che la struttura potesse resistere bene questo approccio diciamo in sequenza non è più non porta più risultati affidabili né come dire convenienti efficienti perché la complessità del sistema le prestazioni elevate e la sempre maggior il sempre maggior dettaglio nel nei vincoli di operativi che sono imposti richiedono di affrontare questa cosa con approccio multidisciplinare ossia non c'è un esperto di una disciplina che parla con un esperto di un'altra disciplina ma insieme devono costruire un modello o meglio questo è l'approccio multidisciplinare l'ottimizzazione è perché alla fine con questo approccio multidisciplinare si cerca il meglio di un qualche fattore di meglio potrebbe essere non so il più basso consumo di carburante la massima efficienza aerodinamica e per far questo usando dei modelli di simulazione si bisogna sviluppare delle tecniche particolari perché purtroppo non è semplicemente massimizzare o minimizzare una funzione che conosciamo come avete imparato nei corsi di base ma è trovare il massimo il minimo di una quantità che sappiamo avere una relazione funzionale con le variabili di progetto ma questa relazione funzionale non è nota o è talmente complessa che non è possibile trattarla analiticamente e questo è un altro filone di ricerca che porta che diciamo che ha come come rami un gran numero di aspetti specifici molto interessanti sui quali i suoi colleghi svolgono tesi e anche attività di ricerca dopo la tesi tutte queste tutte queste attività vengono principalmente per il mio gruppo finanziate dalla comunità europea attraverso i bandi che vengono emissi anno per anno e devo dire che il nostro gruppo è un gruppo che riesce a ben figurare nel panorama europeo nell'ambito di questi di questi progetti grazie grazie professore e ora le chiederei di dare un suggerimento agli studenti attualmente iscritti alle nostre trenali intenzionati a continuare il percorso nelle nostre lauree magistrali sì volentieri allora innanzitutto la prima cosa che io dico sempre ai ragazzi che fanno la tesi con me per esempio è scegliete quello che vi piace non fate non andate dietro a statistiche più o meno affidabili su se fai l'ingegnere di questo tipo hai il 2 per cento di probabilità in più di trovare lavoro sono cose che lasciano il tempo che trovano gli ingegneri trovano lavoro state tranquilli io non ho memoria di un mio studente che sia rimasto a spasso più di qualche mese dopo l'anno quindi scegliete ciò che vi interessa se scegliete quelli l'indirizzo che vi realmente vi interessa sarete dei buoni studenti e quindi dei buoni ingegneri la cosa che posso dire è cercare di rispettare i tempi lo so che è difficile anche per questioni di sistema ma è importante che abbiate un'idea chiara di che cosa farete dopo già prima di iniziare la tesi triennale e quando diciamo immediatamente dopo aver passato aver ottenuto il titolo triennale se avete intenzione ovviamente di continuare con una magistrale non fate passare del tempo iniziate subito e cercate di rimanere al passo per quanto riguarda noi noi docenti noi collegi docenti stiamo cercando non è facile stiamo cercando di rendere il più possibile efficace ed efficiente questo passaggio evitare tempi morti eccetera però questa è una cosa importante ed è tanto più importante quanto più diciamo l'interesse per esperienze all'estero possa essere una cosa che vi che fa parte dei vostri desideri la laurea magistrale è una laurea che dura due anni è un percorso che dura due anni quindi se si vuole fare un'esperienza erasmus all'estero se si vuole avere un'esperienza di tesi all'estero preparatevi per tempo cercate di rimanere al passo con gli esami altrimenti tutto diventa molto più complicato per il resto diciamo che chi è riuscito a superare la triennale la magistrale è una passeggiata ma non perché sia più facile è perché è più interessante i corsi sono quelli che hanno a che fare con l'indirizzo che hai scelto quindi è molto più più semplice però i tempi sono molto serrani cercate di rispettarli fatevi un piano di lavoro ma già dalla triennale fatevi un piano di lavoro chiaro cercate di capire il prima possibile cosa vi interessa e cercate di rispettarli bene grazie grazie professore e ricordo a tutti che in descrizione ci trovano i link e altre indicazioni interessanti grazie di nuovo professore e grazie a tutti grazie ma che buona giornata anche lei